Invasione di Mandri nei Pascoli a Campo Imperatore, altre denunce. Una denuncia in piena regola è quella che arriva dall'amministrazione separata degli usi civici di Paganica e San Gregorio, l'ASBUC per bocca del presidente Fernando Galletti. La denuncia è precisa e circostanziata. L'ASBUC ha fatto sapere che a Campo Imperatore, località Le Fontari, su Pascoli di proprietà del centro turistico del Gran Sasso messa a disposizione per gli allevatori locali, due motrici con rimorchio hanno scaricato ben 80 ovini. Galletti ha chiesto alle autorità competenti di far luce su questo episodio e identificare queste persone e le loro autorizzazioni, anche perché il presidente ASBUC fa riferimento ad episodi analoghi che si sono verificati negli ultimi anni, con aziende del Sud che, per l'amministrazione separata, hanno invaso con le loro Mandri Pascoli a ridosso degli impianti sciistici. Per garantirsi, prosegue l'ASBUC, i finanziamenti statali ed europei della GEA senza averne titolo sulla base di un contratto poi risultato irregolare, come stabilito da una sentenza del Tribunale dell'Aquila nel 2021, dopo un esposto del centro turistico. Il centro, infatti, è proprietario di circa 1000 ettari di pascoli montani che l'ASBUC assegna da maggio a settembre da allevatori locali. Galletti ha segnalato il fatto ai carabinieri del parco alla stazione di Assergi. Il sospetto per lui è che si tratti degli stessi animali e degli stessi mezzi che già in passato hanno frequentato i pascoli locali senza averne titolo. Per l'ASBUC va contrastata l'invasione di aziende sconosciute che prendono ingenti finanziamenti e che sono interessate spesso solo ad abbandonare animali malati, senza produrre nessuna economia. La questione è molto più ampia. Se ne parla da tempo non è la prima volta che episodi simili vengono denunciati. Del resto, sulla faccenda della mafia dei pascoli, si è detto molto negli ultimi anni, con svariati denunce degli allevatori, anche dopo il caso di Ofena, che si ricorderà con il giovane ferito alla testa e poi trovato impiccato vicino alla sua casa ad un mese circa di distanza, bene rumosso delle ombre in questo senso.